Il dirigente affari generale del Comune di Battipaglia, la dottoressa Caterina Iorio, ha reso noto che, come pubblicato sul sito del Comune, la chiusura temporanea per domani degli uffici demografici per l'Assemblea Sindacale. Viene specificato che, per consentire la partecipazione del personale all'Assemblea Sindacale, gli uffici demografici domani saranno chiusi al pubblico dell'ore 9 e l'ore 11. Verranno garantiti servizi essenziali riconducibili all'attività dell'Ufficio di Stato civile e, in particolare, dichiarazioni di nascita e morte.